Sono entrati in due, armati di un'ascia e di un coltello, nella sala giochi Battistelli alla periferia dell'Aquila e sono fuggiti dopo aver preso circa 8.000 euro dalla cassa. La rapina è stata compiuta dalla notte, intorno a Luna, quando il locale che si trova sulla statale 17, località Boschetto di Pile, era ancora aperto e c'erano i clienti. I due rapinatori hanno infatti minacciato i clienti presenti e con un'azione velocissima sono riusciti a portare via i soldi per poi dileguarsi nel nulla. Sta indagando la squadra mobile dell'Aquila, diretta dal dottor Tommaso Niglio. I poliziotti hanno ascoltato tutti i testimoni presenti e ora stanno visionando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza che si trovano nella zona. Per la procura della Repubblica dell'Aquila c'è il pubblico ministero Fabio Picuti.